Sono più di 9.000 in Emilia-Romagna le operazioni bancarie e sospette che potrebbero nascondere casi di riciclaggio. Giorgio Maria Leone. In Emilia-Romagna sono aumentate del 25% le segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo internazionale. Secondo l'ultimo rapporto annuale di Banca Italia risultano in crescita in tutte le province. In particolare Bologna e Modena hanno superato il tetto delle 1.000 segnalazioni. Più della metà dei casi rientra nella classe di rischio medio-elevata. Restiamo quarta regione dopo Lazio, Campania e Lombardia, quindi già questo è molto significativo, con oltre 9.000 operazioni sospette. I settori produttivi interessati in questi nostri territori sono quelli dell'edilizia, delle costruzioni, del commercio, dei servizi. Che purtroppo e non casualmente sono gli stessi settori economici produttivi interessati, sempre guardando i dati ufficiali, dal crescendo, lavoro nero, lavoro irregolare, intermediazione di mano d'opera. Secondo l'unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia, aumenta in regione anche il volume dei bonifici diretti o provenienti dai paradisi fiscali, Svizzera, Hong Kong e Singapore. Evidentemente questi interscambi non sono derivanti dalle cosiddette rimesse dei lavoratori stranieri, sono operazioni complesse, molto molto sospette, perché qui oltre al riciclaggio c'è davvero il rischio concreto del finanziamento al terrorismo internazionale che cresce di oltre il 100%. Questi sono dati confermati dalla Banca d'Italia e più recentemente anche dalla direzione investigativa antimafia.